ciao ragazze buongiorno a tutti e a tutti nuovo video spesa del spa così buongiorno allora vi mostriamo la nostra spesa di oggi nel carta forno una confezione da 8 metri un euro e 85 non è che sia poco è pellicola trasparente pellicola trasparente quanto c'è 12 metri costa 99 centesime quelli nei fatti vedere tutti i dettagli camomilla bonomelli da antilittrici setacciata saranno 25 lo stile per insomma non lo vedo ma sarà così un euro e 69 centesimi sale marino della sardegna sardegna canto che ne è un filo e mezzo di questo guardo allora metto un chilogrammi sì un chilogrammi di sale marino 35 centesimi passata di pomodoro pomì eccola qua eccola qua da 700 grammi di parecchie cante si 700 grazie e c'è la domanda si è vero un euro e 45 spero che sia buono poi patate cassa questi qua questi sono al chilogrammi 1 e 59 non è poco però l'altra volta un'altra marca non erano le stesse e ho votato la metà perché erano tutti a macchie nere dentro questi hanno pesato un filo e 615 totale 2 euro e 57 sono una decina di patate medie poi latte intero l'alborea l'alborea un litro 2 e 19 faccio vedere eccolo qua tanto è lo stesso mi dai quel olio? si olio da friggio eccolo qua despar despar eccolo qua cosa c'è un litro? si un litro eccolo qua un litro costa parecchio 3 e 29 però bisogna pure mangiare quattro limoni no tre limoni si tre limoni tre limoni tre limoni a 2,28 al chilo 2 euro e 28 centesimi al chilo hanno pesato 510 grammi 1 euro e 16 centesimi noi poi cosa abbiamo? fagioli borlotti dove sono? non lo vedo c'erano no sono qua sono qua fagioli borlotti a 3 euro e 29 al chilo hanno pesato 470 grammi 1 euro e 55 ecco di qua queste qua sono? l'enticchia qua sotto l'enticchia minghioccio e piccoli mignola e un po' non sono tanti piccoli a 2 euro e 69 al chilo 360 grammi 97 centesimi per noi bastano per due volte vedete la costa un po' qua paffè su earth paffè su earth eccolo qua vi faccio vedere sono mezzo chilo 4 euro e 39 anche questo è avuto io solamente merendini molino bianco de sparo canile sono a base di carota ce ne sono 3 no 8 pezzi forse si e fanno bene diciamo gustosa mi piace ottimo 1 bianco 3 e 89 con carina de sparo canuccia abbastanza e de sparo capite ci siamo non alzare i prezzi così farina de sparo un chilo un euro e 39 dammi le aranci si un po' le aranci un po' le aranci quanto ce ne hai non lo dici quanto ce ne hai 2 un chilo e mezzo ecco qua un chilo e mezzo d'arance 2 euro e 89 il profumo è molto bello peccato che vuoi mangiare un po' qua frutto no allora pomodori de sparo che sarebbero dei pelatini dammi qua pomodorini de sparo sarebbero dei pelatini però pomodorini 95 centesimi de sparo eccoli qua due mele due mele due mele red a un euro e 89 al chilo hanno pesato 360 grammi 68 centesimi e mi pare che la nostra spesa sia tutta qui si ah comodoro a grappolo dov'è comodoro a grappolo non è questo eccolo ecco qua comodoro a grappolo 3 perché se faccio i miei sogni fagioli ci hai metto allora questi sono al chilo al chilo 3 e 19 al chilo hanno pesato 405 grammi totale 1 euro e 29 1 euro e 29 allora totale 33 e 59 euro più mi hanno messo 2 euro e 65 di iva io non so questa iva che è uscita né commestibili a noi clienti io quando ero in negozio facevano spesone grosse le persone anche certi ditte gli operai e si faceva allora totale iva si faceva corpore e scorpore quindi si toglieva al cliente quest'iva non so come funziona il fatto era questo invece qui ce li fanno proprio pagare perché ho speso 33 e 59 più 2 più 2 65 e quindi insomma l'importo pagato 33 e 59 33 euro forse non me l'hanno fatta pagare e spero di non chiudiamo vi auguro tante buone cose presto e ciao arrivederci arrivederci per l'attenzione per l'attenzione per l'attenzione per l'attenzione per l'attenzione